un ssd portatile da 4 tera amici a sole 59 euro sarà vero o sarà la solita stronzata cinese lo scopriremo in questo folle video partiamo dal packaging che in realtà non è neanche fatto troppo male come potete vedere è abbastanza curato ci sono dei parametri qui in inglese e sembra comunque ben stampato lasciando perdere che questo qui è un po sciagattato perché è stato già evidentemente aperto vediamo il contenuto di questa incredibile proposta allora in questo particolare pacchetto abbiamo un adattatore usb normale usb 3.0 usb c e questo dispositivo otg evidentemente per collegarlo a cellulari ormai di vecchia generazione perché sono a micro usb quindi roba che ormai non serve più questo invece è il nostro ssd lo vedete qui portable ssd mobile storage si presenta bene sbudelliamolo allora il dispositivo è leggero secondo me se lo lascio vola via quindi questa è già una cosa un po sospetta è tuttavia fatto di un bel materiale un bel alluminio finto evidentemente si presenta come un dispositivo un po cheap nel senso che i materiali sono simpatici questo finto alluminio ci sta queste due tappe di plastica però si vede che insomma e allora cari amici non ci resta che testare questo taffanaio allora ci siamo qui c'è il mio macbook pro ho messo disc utility in modo che potremo vedere tutte le informazioni del disco appena lo collegheremo qui c'è il dangle usb c usb 3.0 e collegherò adesso il nostro presunto ssd da 4 tera sarà davvero un dispositivo valido o sarà il solito taffanaio cinese lo scopriremo fra pochissimi secondi l'ho collegato c'è questo led che effettivamente da segni di vita effettivamente è comparso un ssd attenzione e segna effettivamente 4,19 tera no come è possibile amici la prima cosa che farò sarà ripristinare questo hard disk in modo che se c'è qualche formatazione particolare che faccia comparire questa scritta 4 tera possa eventualmente essere rimpiazzata dalla vera capacità quindi andiamo processo completato sembra che sia veramente un disco da 4 tera quantomeno viene rilevato come un disco da 4 tera ok amici vi confesso che a questo punto sono ancora più confuso una cosa è certa questo dispositivo mi puzza abbastanza è troppo leggero e sicuramente la sua fattura non giustifica una così estesa memoria interna bene questo è il mio mac 20 pollici che ho riesumato in uno dei precedenti video come vedete anche esso rileva il nostro ssd dentro ciò ho sparato un file che naturalmente è sparito anzi no eccolo qui questo file qui in realtà è un programmino un tester per hard disk infatti eccolo qui dai osti è scioppato hard disk va bene togliere dalle balle sto file dal nostro hard disk perché dovremo appunto testarlo quindi adesso facciamo questo test vedremo che cosa succede come potete vedere dentro l'hard disk viene messo questo file aspetta un attimo 65 ore 18 minuti 59 secondi rimanenti e sembra che il nostro programmino stia aggiungendo sempre più file e stia riempiendo sempre di più il nostro hard disk con questi file numerati ho la sensazione che quando il disco si saturerà alla sua vera capacità il programma si interromperà e noi potremo leggere qui qual è la vera capacità del nostro hard disk ok amici questo affare mi sta decisamente stupendo sembra che ci siano 133 giga di fottutissima memoria come potete vedere il nostro primo file è ancora qui quindi non è stato sovrascritto ci sono 124 file questo affare potrebbe veramente avere molta più memoria di quello che mi sarei mai aspettato bene amici il secondo giorno di test la progressione del nostro test si è bloccata qui più o meno poco più della metà della capacità da testare quindi abbiamo effettivamente un disco con 2.26 terabyte perché qui la progressione dei nostri file numerati continua va da 1000, 1008, 1010 eccetera eccetera e a un certo punto subito va a 2105 così a caso questo SSD ha resistito a due giorni di lettura e scrittura e si è anche rivelato più interessante di quello che avrei mai pensato ben 2 tera di capacità effettiva su 4 tera dichiarati per una cinesata non è niente male sicuramente io non ci terrei le cartelle dei pazienti oncologici sopra ma un backup di un backup di un backup magari sì detto questo io ne ho una scatola piena perché le ho presi in uno stock di altra roba se volete 20 euro 20 euro un hard disk da 2 tera che comunque avete visto in questo video e si è rivelato interessante penso che sia una cifra abbastanza congrua considerato che lo potete trovare a 50-60 euro da nuovo questi sono tutti sigillati cari amici se vi interessa potete avere accesso all'acquisto tramite il link che vi lascerò qua sotto in descrizione del mio personale ebay e quindi divertitevi e se vi va compratene uno e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video